Dal celeberrimo Stuffepita, ovvero Pierino Porcospino «Oh che schifo quel bambino, Pierino il Porcospino, e le allunghe smisurate che non furono mai tagliate, i capelli sulla testa, e han formato una foresta densa, sporca, puzzolente», dice a lui tutta la gente «Oh che schifo quel bambino, Pierino il Porcospino!» La storia del bambino che si succhiava i pollici Dice la mamma «Mio buon corrado, per pochi istanti io me ne vado, vuo che tu sia studioso e buono, non far disordine, non far frastuono, è guai se il pollice succhiar vorrai, in modo orribile te impentirai, Tu non l'aspetti ma di soppiatto entrerai il sarto tutto ad un tratto, taglierai il pollice col forbicione come se panno fosse, o cartone» La mamma appena la soglia tocca, ed ecco il pollice nella bocca, s'apre la porta ed il sartore entra a gran salti pieno di furore, Col forbicione zic-zac recide al bimbo i pollici, il bimbo stride «Ah!» in van che il sarto se ne è già andato col forbicione insanguinato La mamma, tonita e sbigottita, vede Corrado senza due dita, e quei due pollici così tagliati mai più a Corrado sono rispuntati Ciao ciao bambini, mi raccomando, lavatevi bene le mani, e per carità che non vi venga mai in mente di succhiarvi i pollici